Il viaggio del ministro Teruzzi nei territori dell'impero, Gondar, capitale della Mara, è dotata ormai di una perfetta attrezzatura urbanistica e i famosi castelli ormai tutti restaurati. Nella piazza la folla acclama l'Italia e al Duce. Alle antiche costruzioni rimesse in ordine ed in uso, come la piscina dei Negus Facilidi, si sono aggiunte con cielo e ritmo nuove imponenti realizzazioni, ariosi quartieri per i nazionali. L'edificio del dopolavoro. La casa del soldato, dotata di ampie sale di ritrovo, costruzioni industriali. Presso la capitale della Mara, il ministro ha infine visitato i lavori per la costruzione di una diga che permetterà l'impianto di una centrale elettrica di grande potenza. La casa del soldato, dotata di ampie sale 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 di